Tra le località più suggestive all'interno del comune di Montenero Domo, indubbiamente un posto di primo piano meritano i resti di Juvanum con tutti i reperti archeologici molto importanti del periodo romano che è possibile visitare. Tra poco questa zona potrà beneficiare anche di qualcosa di molto importante dal punto di vista ricettivo o anche in collaborazione con l'Università di Camerino. Ne parliamo con il sindaco Antonio Tamburrino, da poco eletto anche vicepresidente della provincia di Chieti. Direi che Juvanum ha un'importanza strategica per l'intera provincia e per l'Abruzzo stesso. È un'area archeologica tra le più fruibile della nostra regione. Antico municipio romano, si trova all'interno del parco archeologico di Juvanum che è esteso circa 30 ettri, i resti invece insistono su 4 ettari e sono unici perché la città di Juvanum si è mantenuta integra perlomeno nella sua composizione architettonica. Noi troviamo la zona dei templi, quindi l'area sacra, il teatro, le terme, il foro e con la basilica. E da poco, dal 2006, l'area di Juvanum, quindi il sito archeologico di Juvanum, è anche dotato di un museo archeologico. Abbiamo puntato su Juvanum perché riteniamo, questa amministrazione e anche le precedenti, che il volano della nostra economia è appunto rappresentato dai resti dell'antica città di Juvanum, che porta un flusso turistico non indifferente. Attraverso vari progetti siamo giunti anche, ultimamente, anche alla ricostruzione virtuale dell'antica città, o perlomeno di parte dell'antica città, ovvero della zona dei templi, del foro e della basilica. Stiamo lavorando sulla ricostruzione anche del teatro e della zona delle terme. Ultima, come dicevi tu, ultima chicca è il recupero dell'antico casolare, dell'ottocentesco, che insiste proprio sull'aria, al ridosso del museo, che praticamente il Comune ha recuperato con fonti Pitt e adesso con un altro finanziamento che mira all'arredo di questo casolare, possiamo ospitare gli studenti che vengono a studiare, vengono a formarsi appunto in loco. E questo ulteriore finanziamento che mira proprio all'arredo del casolare che abbiamo ottenuto con un bando sul PSR fatto attraverso il Galmaiella Verde, noi potremo ospitare sei studenti con tutti i comfort che necessita oggi per un'ospitalità. e abbiamo da poco, diciamo, sottoscritto una convenzione con l'Università di Camerino che si è dichiarata disponibile attraverso, con un loro corso di tecnologia di restauro, e i ragazzi che frequentano questo corso verranno in loco sia per il recupero dei resti che noi abbiamo nel magazzino del museo e soprattutto per studiare l'aria. Il nostro fine è quello della divulgazione, della promozione dell'area dell'antica città. Come tempistica, secondo lei, Sindaco, quando si potrà concretizzare questo progetto? Ci vorrà del tempo oppure parliamo di tempi rapidi? Tempi rapidissimi perché il finanziamento è già stato concesso, l'allestimento quindi consta solo della fornitura di mobile e di arrede, la convenzione è stata già approvata dal Consiglio Comunale e quindi già dalla prossima primavera gli studenti dell'Università di Camerino e in particolare gli studenti che frequentano il corso di laurea di tecnologia e diagnostica per la conservazione e il restauro dell'Università di Camerino potranno già essere ospitati all'interno di questa struttura.